Oltre 600 persone registrate per l'open day in corso al drive-in del porto, oltre agli over 40 potranno prenotarsi e vaccinarsi anche i nati dal 1986 e anni precedenti. I carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno arrestato due persone, un 23enne per i reati di lesioni personali, resistenza e minaccia pubblico ufficiale e un 24enne per il reato di evasione. Continua la fase assolutamente virtuosa di quello che si può definire il non inquinamento atmosferico a Civitavecchia, tutti i valori controllati risultano al di sotto dei livelli di allarme. Num e Pento è il titolo del nuovo sonetto di Pasquino, l'anonimo poeta dialettale si occupa della nostra città, lodandone le bellezze parzialmente offuscate dalla pandemia da Covid-19. Si giocherà domani il derby tra Civitavecchia e Città di Cerveteri, i nerazzurri saranno di scena allo Stadio Galli in una gara che vale poco per la classifica, ma tanto per l'orgoglio. Buonasera dal TRC Giornale, sono oltre 600 le persone registrate per l'Open Day organizzato per le giornate di oggi e domani. La ASL Roma 4 ha deciso di mettere a disposizione dell'iniziativa che si svolge al drive-in del porto 720 dosi di AstraZeneca. Da questa mattina medici e infermieri hanno quindi iniziato a inoculare il siero agli over 40 che si sono prenotati. Ma vediamo il servizio, sentiamo. È in corso al drive-in del porto l'Open Day AstraZeneca per cui si è registrato un vero e proprio boom di prenotazioni. Più di 600 persone si sono infatti registrate per le due giornate, quella di oggi e quella di domani, in cui possono vaccinarsi gli over 40. Il vaccino si fa direttamente in auto dopo l'anamnesi e successivamente si attende in un'area sorvegliata dal personale sanitario subito dopo la somministrazione del siero. Come detto si può parlare di grande successo per l'iniziativa che si tiene dopo la buona riuscita di quella della settimana scorsa svolta a Bracciano, con la ASL Roma 4 che ha deciso di mettere a disposizione 720 dosi di AstraZeneca. Da questa mattina con cancelli aperti alle 8.30, medici e infermieri hanno quindi iniziato ad inoculare il siero agli over 40 che si sono prenotati e che hanno presentato il ticket virtuale rilasciato al momento della registrazione. All'arrivo al drive-in ciascun utente ha ricevuto un numero e con la propria auto ha poi raggiunto una delle due postazioni vaccinali allestite. Il tutto, come detto, si svolge senza che il paziente scenda dal proprio abitacolo. Il medico procede con l'anamnesi, poi un infermiere inocula la dose del vaccino e infine il vaccinato attende nel parcheggio per 15 minuti. Un addetto si occupa invece del post inoculazione monitorando la situazione degli utenti. La stessa prassi si svolgerà ovviamente anche nella giornata di domani, sempre dalle 8.30 alle 23. Intanto, sempre per quanto riguarda l'open day AstraZeneca con ticket virtuale, la novità è che da oggi potranno prenotarsi anche gli over 35, quindi i nati dal 1986 e anni precedenti. Una notizia che conferma il trend positivo per quanto riguarda le vaccinazioni nel Lazio e a Civitavecchia, con la Regione Lazio, che tra l'altro ieri ha confermato che nei primi di giugno, per garantire lo svolgimento dell'esame di maturità in sicurezza, tutti i maturandi potranno prenotarsi e ricevere il vaccino Pfizer. E proseguiamo con la cronaca. I carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno arrestato due persone, un 23enne per i reati di lesioni personali e resistenza in minacce a pubblico ufficiale e un 24enne per il reato di evasione. Nella tarda serata di ieri i carabinieri sono intervenuti presso un'abitazione di Santa Marinella, dove era in corso una lite familiare. I militari hanno accertato che un giovane aveva aggredito per futili motivi il padre e la sua compagna, cagionando a quest'ultima lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Lo stesso, in forte stato d'agitazione, alla vista dei carabinieri intervenuti, ha iniziato a minacciarli, tentando poi di colpirli con calci e pugni, prima di essere definitivamente bloccato. L'aggressore è stato successivamente accompagnato presso la caserma di Via Sangallo e al termine degli accertamenti e sulla scorta delle dichiarazioni raccolte è stato dichiarato in arresto e successivamente condotto presso la sua abitazione, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Sempre i carabinieri della sezione radiomobile del NOR e della compagnia di Civitavecchia, qualche ora prima, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno individuato un 24enne con precedenti, già noto ai militari, poiché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso una comunità del posto che passeggiava in strada e lo hanno fermato per una verifica. Il giovane non ha fornito una valida spiegazione che lo giustificasse fuori dalla struttura e risultando inoltre privo di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, è stato arrestato per evasione e nuovamente sottoposto ai domiciliari presso la comunità come disposto dall'autorità giudiziaria. Per la terza settimana consecutiva il report sulla situazione ambientale di Civitavecchia fornito da Arpa Lazio evidenzia dati assolutamente tranquillizzanti. Tutti gli agenti inquinanti controllati dalle diverse centraline disseminate nel territorio urbano hanno evidenziato numeri ben al di sotto dei livelli d'allarme fissati dalla legge. Ma sentiamo, vediamo. Continua la fase assolutamente virtuosa di quello che si può definire il non inquinamento atmosferico a Civitavecchia. Anche l'ultimo report diffuso da Arpa Lazio relativo alla settimana compresa tra il 10 e il 15 maggio scorsi evidenzia una situazione assolutamente ottimale del tutto simile al precedente che era risultato il migliore dall'inizio dell'anno. Anche nel nuovo resoconto, tutti i valori controllati attraverso le diverse centraline disseminate nel territorio urbano risultano infatti molto al di sotto dei livelli di allarme evidenziando in particolare un autentico crollo del monossido di carbonio rilevato dalla postazione di Fiumaretta. Nello specifico, per quanto concerne gli ostili di azoto, la centralina di Villa Albani, che nella precedente osservazione aveva fatto registrare 18 microgrammi al metro cubo, resta sullo stesso valore. Al porto si sale da 21 a 28 microgrammi, in via Morandi si rimane a quota 20 microgrammi e in via Roma si sale da 25 a 40. Riscontri per l'ennesima volta, notevolmente al di sotto del livello di allarme, fissato a 200 microgrammi. Stabili rispetto alla settimana precedente i valori del particolato, ovvero delle polveri. Il PM10 resta a 15 microgrammi al metro cubo in centro città e passa da 14 a 15 microgrammi al porto e da 20 a 21 microgrammi a Villa Albani. Nel caso del PM10 la soglia di allarme scatta sopra i 50 microgrammi. Crolla, come detto, il valore del monostro di carbonio, che rimane in città a 0,6 microgrammi al metro cubo, ma nella centralina di Fiumaretta scende da 1,1 a 0,4 microgrammi al metro cubo. Sempre per quanto riguarda Fiumaretta, il benzene sale leggermente da quota 0 a quota 0,1 microgrammi. Situazione più che tranquilla anche nei quartieri. Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, il valore più basso è stato rilevato ad Aurelia con soli 6 microgrammi. Seguono San Gordiano e Sant'Agostino con 7, il Faro con 8, Campo dell'Oro con 9 e Fiumaretta con 37 microgrammi. Per quanto riguarda il particolato, si va dai 10 microgrammi misurati ad Aurelia ai 12 di Sant'Agostino, ai 14 del Faro, ai 17 di Fiumaretta e San Gordiano, per finire con il 18 di Campo dell'Oro. E continua il botte e risposta tra i consiglieri Vittorio Petrelli e Marietta Tidei sul tema degli usi civici. La sua risposta, commenta Petrelli in merito alle parole di ieri di Tidei, ha purtroppo lo stesso taglio di quelle rese fino ad oggi dall'Università Agraria con la quale per questo non si riesce a dialogare. Dice pochissimo sull'argomento, non è affatto centrata e travisa fortemente il mio scritto. Il consigliere di Ripartiamo dei Cittadini spiega che secondo lui la soluzione parlamentare non serve a Civitavecchia e invita Tidei a un confronto leale e un dibattito costruttivo. Tirano Power ha abbandonato il suo progetto di una moderna centrale a gas perché ci sono troppe incertezze sui tempi delle autorizzazioni e così un potenziale investitore per il nostro territorio se ne va, portando altrove gli investimenti e il lavoro. Lo spiega in una nota il gruppo consigliare della Lega di Civitavecchia che pone diverse domande e afferma che secondo loro sarebbe meglio uscire dal carbone mantenendo una prospettiva industriale come quella del gas. Enel, concludono nella nota, oggi investe in tecnologie nuove e sostenibili, se va via non potremmo chiederle di farlo qui, se resta potremmo non solo chiederlo ma pretenderlo. Ripresa in insicurezza e con forte attenzione per il tessuto economico locale sono gli obiettivi della Lega che sta seguendo il dialogo avviato dall'amministrazione comunale con le associazioni di categoria per far sì che la graduale riapertura del traffico croceristico possa da subito trasformarsi in opportunità di sviluppo. Confermiamo che i rapporti della Lega con la ConfCommercio e le altre categorie scrivono dal gruppo consigliare dei salviniani e sono in sintonia con sviluppo della città, con il nostro sindaco rappresentante unico del progetto, quindi solo voglia di lavorare e porre le basi affinché le istituzioni creino le migliori condizioni per chi fa impresa. Ed anzi, possiamo proprio affermare che il dialogo avviato ha ottenuto i primi risultati, tanto da poter già coinvolgere nel tavolo anche l'autorità di sistema portuale per la definizione delle strategie per intercettare flussi turistici in uscita dal porto. Nume Pento è il titolo del nuovo sonetto di Pasquino, l'anonimo poeta dialettale si occupa della nostra città lodandone le bellezze parzialmente oscurate dalla pandemia da Covid-19. Ma sentiamo. Mo tu me devi disi sta giornata? Me la trovi in quark'altra cittadina. Il mare, il sole e lungo la marina è un sogno a una staffana passeggiata. La città pare tutta illuminata e quando siedi sopra una panchina ti abbronsi, si te metti alla solina e la vita è più dolce e riposata. La sera viace in celle e nerviale lo struscio è come il mare in movimento. C'è sempre lo stesso rituale, c'è sempre lo stesso godimento e il monno pare fermo e sempre uguale. Io sto qui da una vita e non me ne pento. ma adesso pare spento. La corpa è tutta questa pandemia che la bellezza ci sta a portar via. E intanto si è concluso in questi giorni allo Stendale il progetto Erasmus Move On che ha visto coinvolte cinque scuole di nazioni diverse Romania, Lettonia, Germania, Spagna e Italia interamente dedicato a studenti con difficoltà motorie e cognitive. Gli studenti di ogni nazionalità hanno lavorato a un piatto tipico locale e hanno realizzato anche una preparazione comune utilizzando una ricetta scelta dalla scuola tedesca capofila del progetto. Gli studenti dello Stendale hanno realizzato una caprese ambientandola in una scenografia di cartapesta che rappresenta appunto i faraglioni di capri. E proseguiamo con lo sport calcio una partita che dirà poco o nulla per la classifica ma importante soprattutto per l'orgoglio visto che è un derby molto sentito. Il Civitavecchia fa visita domani alle 11 al città di Cerveteri nella nona giornata del campionato d'eccellenza tante le assenze a cui dovrà far fronte il tecnico nerazzurro Roberto Macaluso che non avrà a disposizione lo squalificato Funari, gli infortunati Tollardo, Mancini, Mastropietro oltre ai lungodegenti Cerroni, Gaudenzi e Converso ma sono in forte dubbio anche Gravina e Pastorelli. In campo tra le file del Cerveteri saranno invece presenti tanti ex Civitavecchia come Laurato, Di Mario, Treccarichi, Filangeri e Chireletti. Ma sentiamo l'intervista, vediamo. Allora con Gabriele Larosa parliamo del campionato del Civitavecchia mancano due partite per quanto vi riguarda perché giocherete con il Cerveteri poi Riposo e poi con il Pomezia entrambe le partite in trasferta partiamo dalla partita con il Cerveteri quali sono le motivazioni che ha questo Civitavecchia? perché per quanto riguarda la classifica le motivazioni sono poche però come affronterete la partita? Come hai detto tu il campionato è stato un campionato diciamo atipico è un campionato con una tipologia molto strana a questo punto non possiamo chiedere matematicamente di poter adambire al primo posto ovviamente perché la matematica non è un'opinione però le motivazioni le dobbiamo trovare dentro di noi dobbiamo cercare sempre di dare il massimo e di onorare insomma questo accordo che abbiamo preso e dobbiamo farlo soprattutto per il nome per la società c'è la possibilità del Ciacaccio tutto questo e avete dimostrato anche con il Real Monterotondo appunto di onorare il campionato soprattutto nel primo tempo avete messo in grande difficoltà il Monterotondo per quanto riguarda proprio questo campionato tu che cosa pensi? avresti fatto qualcosa di diverso per quanto riguarda la federazione oppure insomma era la giusta come possiamo dire la giusta soluzione per tornare in campo? quello che posso dirti io non mi sento di avere le competenze di poter rispondere a questa domanda ci saranno sicuramente persone che avranno fatto dei programmi e hanno deciso al tempo che era una cosa giusta ricominciare io amo questo sport come tanti altri quindi sono stato contento della decisione di ricominciare e niente è andata così poi speriamo di tornare nella normalità nella prossima stagione di insomma di fare tutte le cose con le tempistiche giuste e di farci trovare insomma molto più preparati e nella prossima stagione ti vedremo sempre a Civitavecchia? ma questa ancora non è la domanda da poter fare comunque io sono contentissimo intanto di finire la stagione di finire la stagione qui con i miei compagni mi trovo bene qui quindi poi vedremo cosa succederà intanto finiamo queste due partite e ci riposiamo un pochino dai Palla a nuoto dopo quattro vittorie consecutive di cui tre con punteggi molto larghi arriva un test molto probante per la cosa di Daniele Lisi domani alle 17 le giallo-blu saranno di scena alle cupole di Acilia per affrontare la Lazio Tortore e compagni condividono la vetta della classifica con le bianco-celeste ma sarà difficile trovare ancora l'appuntamento con la vittoria perché le romane hanno costruito un roster di primo livello per la categoria Atletica la 100 km del Passatore non si può svolgere in presenza nessun problema l'atleta Civitavecchiese Giorgia Gargiulli la disputerà lo stesso domenica prossima nella nostra città a partire dalle 6 di domenica Gargiulli inizierà la sua 100 km in giro per tutta la zona bassa di Civitavecchia con 10 giri da 10 km ciascuno questa iniziativa è nata anche per lanciare un messaggio ovvero quello di ripartenza dello sport dopo il periodo di restrizioni legato al Covid ma sentiamo l'intervista vediamo Giorgia Gargiulli un'edizione del Traffato del Passatore è davvero particolare perché non andrai in trasferta come accaddeva magari per gli altri anni prima del Covid ma quest'anno la farei a Civitavecchia spiegaci come spiegaci come è nata questa idea allora l'idea è nata fondamentalmente nella mia città ovviamente quindi ho preferito farla a Civitavecchia avendo già una preparazione per questa 100 km e pensando anche un po' al diciamo al periodo che ha portato comunque una pandemia importante quindi lo sport diciamo che sia un pochino spento c'è chi addirittura ha smesso quindi il mio messaggio è una ripresa diciamo dello sport e l'ho voluto fare con questa impresa di 100 km a me cara già fatta l'anno scorso percorso vero quindi 100 km partendo da Firenze e arrivando a Faenza la corsa è importante mi lega tantissimo ho iniziato nel 2016 ricominciando con le gare agonistiche e da lì ecco arrivando poi a fare delle imprese come appunto la 100 km le varie maratone le ultramaratone che poi ho effettuato quindi domenica quando si parte dove potremmo vederti perché magari qualcuno potrà venire a vederti in giro per sciglie allora la mia idea ovviamente facendola nella città dove sono nata parto dal negozio parto innanzitutto alle 6 di mattina anche per un problema ahimè di pandemia ancora quindi con la restrizione dell'orario e parterò dal negozio Liberty che sono tra l'altro coloro che mi hanno aiutato insieme a Massimiliano Zeno di sponsorizzare questo evento quindi mi hanno aiutato appunto anche con le magliette appunto l'evento prenderà il mio nome quindi la 100 km di Giorgia e da lì prenderò i punti diciamo fondamentali della mia città porto passerò per il centro quindi farò tutto il viale tutta la lega la marina farò diciamo un giro di 5 km verso San Gordiano e rientrerò poi verso Civita Vecchia passando sempre dal negozio Liberty che quello sarà il mio decimo chilometro di ogni giro quindi saranno 10 giri da 10 km io spero di di avere diciamo il supporto Civita Vecchiese oltre che quello ecco dei miei compagni cosa importante ho deciso anche di prendere 10 persone che hanno un'immagine a Civita Vecchia anche ex atleti forti che mi accompagneranno in questi giri facendo a cambio ogni passaggio al chilometro quindi ogni 10 km ci sarà questo cambio indosseranno ovviamente la mia maglietta di un colore diverso e ogni giro loro si daranno il cambio quindi avranno un supporto fisso e poi tutto il resto dietro gruppo che mi accompagnerà fino alla fine e passiamo al pugilato Cristian Gasparri ce l'ha fatta il pugile allenato da Riccardo e Angelo Gasparri che ha portato a casa il trofeo delle cinture per i pesi super più ma a Dugento in provincia di Lecce faccia ad Angelo ha sconfitto ai punti un avversario di buon livello come Antonio Conforto serata felice anche per Angelo Rizzo che nei pesi massimi ha sconfitto il palermitano Ignazio Di Bella match che non ha mai avuto storia con il Grizzly che ne ha potuto approfittare soprattutto per raffinare la condizione dopo 20 mesi senza combattere Palla a mano dopo due stagioni finisce l'avventura di Anna Giulia Francesconi con la maglia del leno con cui ha giocato in serie A1 e ha recentemente conquistato la salvezza la notizia era già nell'aria da qualche giorno ma è arrivata ora l'ufficialità dalla società Lombarda nella stagione appena terminata la Civita Vecchiese è stata una delle protagoniste soprattutto per la sua versatilità nel giocare in qualsiasi ruolo Buona la prima è decollata ufficialmente la collaborazione del consorzio Sport Civita Vecchia che giovedì si è presentato alla città presso il Parco Martiri delle Foib meglio conosciuto come Uliveto Nautilus Emas Basketpirgi Civita Vecchia Volli CRC Rugby e Asgin hanno brillantemente tagliato i nastri di partenza organizzando le ultime giornate del progetto Centro Coni Avviamento allo Sport 2020 e termina qui il nostro notiziario come sempre vi ricordo di seguirci nei nostri canali social quindi Youtube Facebook naturalmente il nostro sito telematico www.trcgiornale.it e ora non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata di programmi e soprattutto un buon fine settimana arrivederci grazie a tutti